Baccarella, il siciliano che nella targa Florio vive... E' partita in questo istante la 99esima targa Florio Quarta prova del campionato italiano rally Quarta prova del campionato italiano rally autostorica valida per il trofeo rally nazionale Paolo Andreucci, Anna Andreussi, la Peugeot 208 T16 Hanno appena adesso lasciato la pedana di partenza Per essere anche voi qui insieme a noi in questa splendida piazza Verdi qui di Palermo E torniamo ancora una volta alle autostoriche, ai protagonisti del campionato italiano autostoriche Adesso la volta di, se non vado errato, di Natale, Mannino e di Giacomo